Bene ragazzi, oggi siamo qui per fare il tutorial su come fare la ruota Molti me l'hanno richiesto e oggi vi farò vedere come farla Ovviamente ragazzi vi darò delle dritte base insomma Innanzitutto, a partenza Si sta sulle punte, braccia ben in alto E in questo caso io ho una linea da seguire E cioè voi potete farla anche immaginaria E l'importante è seguirla per fare una ruota perfetta Adesso vi farò vedere come Innanzitutto piedi in avanti Poi le braccia così Una un po' distante dall'altra Guardate Adesso ve la faccio vedere tutta La ruota Ok Così è come va fatta in una ruota perfetta Rivediamo i passaggi Ok ragazzi, noi arriviamo arrivati a questo punto Perché dentro alza la sinistra E poi facciamo così E dopo vabbè è finale così Perché fa dinastica artistica Ok ragazzi, facciamo una altra volta Le gambe devono essere tese E anche le braccia Poi il palmo Deve essere completamente A contatto col terreno Così E le mani devono essere aperte Non chiuse Per quelli più esperti Che hanno già imparato come fare la ruota Cercheranno di fare magari Tre, due o tre di fila Come farò io adesso Ovviamente stanno sulla stessa linea E ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se sì lasciate un bel commentino E un bel like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto In descrizione trovate La mia pagina Facebook E la mia pagina Instagram Dal vostro Lucas è tutto Ciao belli